Nuova tragedia a carnevale, muore ad appena 16 anni Vincenzo Soldano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un palo in via Mazzini. Salva la ragazzina che era con lui. Appena due anni fa l'incidente è costato la vita di Sebi Soldano. Ieri sera dopo aver sentito la notizia o pianto, così al nostro telegiornale Calogero Soldano, il papà di Sebastian, con la famiglia di Vincenzo c'è una parentela. Purtroppo non c'è altro da fare che andare avanti, dice Calogero Soldano. E la tragedia di Vincenzo Soldano irrompe sull'organizzazione del carnevale di Sciacca, oggi riunione tra maestranze ed amministrazione. Durante la manifestazione che inizia oggi ci saranno momenti di silenzio e di riflessione. Clima di grande commozione tra i protagonisti del carnevale anche in via Cappuccini stamattina dove si stanno ultimando le fasi di assemblaggio dei carri allegorici in vista della sfilata di oggi pomeriggio, lo spettacolo sul palco a partire dalle 20 e 30. Malgrado tutto è carnevale, la pioggia ancora una volta stravolge il programma. Annullati tutti gli spettacoli in programma ieri, stasera si prevede la recita dei primi tre carri allegorici che sfilano, incertezze meteo per i prossimi giorni. Carnevale e solidarietà anche quest'anno per i giorni di festa. La Casa del Volontariato di Piazzetta Bevilacqua ospiterà i diversamente abili per assistere alla festa. A Villa Franca Sicula il Comune mette a disposizione un autobus per trasportare i giovani a Sciacca. Un cordiale saluto ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. La cronaca oggi in apertura aveva appena 16 anni, Vincenzo Soldano, l'adolescente morto ieri sera in via Mazzini dopo essersi schiantato contro un palo della segnaletica. Insieme a lui viaggiava una ragazza, per fortuna rimasta solo leggermente ferita. Un incidente in pieno clima carnascialesco, proprio come due anni fa, con la morte di Sebastian Soldano, il primo dei nostri servizi. Due anni dopo la tragedia di Sebastian si spezza un'altra giovane vita, Sciacca, proprio nei giorni di carnevale, nella più terribile delle coincidenze. Aveva appena 16 anni Vincenzo Soldano, sì, lo stesso cognome di Sebastian, un'altra circostanza drammatica. Ieri sera lo scooter sul quale il ragazzo viaggiava è andato a schiantarsi contro un palo della segnaletica situato in via Mazzini, in pieno centro abitato. Le cause dell'incidente sono tuttora al vaglio della polizia di Stato e dei carabinieri. Insieme a Vincenzo viaggiava una ragazzina, minorenne anche lei, che per fortuna nell'impatto ha subito solo delle leggere ferite. I soccorsi sono stati immediati, ferite quelle subite dal ragazzo, gravissime malgrado sia lui sia la giovane che viaggiava insieme a lui, indossassero regolarmente il casco. Trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II, i medici hanno constatato la presenza di gravi traumi. La morte è sopraggiunta pochi minuti dopo. Vincenzo frequentava il secondo anno dell'Istituto Superiore IPA Miraglia, annesso al Don Michele Arena. È un autentico pellegrinaggio verso la camera mortuaria dell'ospedale di Sciacca, dove si trova la salma del giovane. Quello è in corso in queste ore da parte dei tanti amici di Vincenzo. La notizia dell'incidente mortale si è diffusa subito in una città assolutamente pervasa dal clima carnascialesco, in una situazione nella quale ancora una volta il contrasto tra gioia e dolore si è preso uno spazio innaturale. La famiglia di Vincenzo è molto conosciuta, il padre gestisce da anni, una pizzeria in via Carlo Marx. Ieri sera non appena ho saputo di quest'altra tragedia sono scoppiato in lacrime, così al nostro telegiornale Calogero Soldano, il papà di Sebastian, il giovane sedicenne morto due anni fa per un incidente stradale, lo stesso destino del povero Vincenzo deceduto ieri sera e purtroppo non è la prima tragedia di carnevale. Il servizio di Massimo D'Antonio. Quella costata la vita di Vincenzo Soldano nella storia non è l'unica tragedia che si è consumata a carnevale. Nel 2000 furono quattro i giovani riberesi morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un furgone che procedeva in senso opposto, tornavano dalla festa in maschera saccense. Due anni fa la morte di Sebastian Soldano nello schianto tra il suo scooter sul quale viaggiava con un amico ed un furgone nei pressi del cimitero. Il papà di Sebastian è oggi accettato di ricordare il figlio e di cercare di spiegare cosa può provare una famiglia di fronte ad una tragedia di questo genere. Il mondo mi è caduto addosso. Mi hanno costretto in macchina di non vederlo ma non l'ho visto più. E oggi lei cosa si sente di dire alla famiglia di questo ragazzo? Tra l'altro siete omonimi anche se è una parentela lontana. Dico di andare avanti con la vita, di non arrendersi e di continuare, come ho fatto io due anni, con mia moglie e mia figlia che ci dà la forza di andare avanti. Naturalmente il ricordo era sempre vivo. Sì, è sempre vivo il ricordo di lui, anche di altri ragazzi che hanno vissuto questa disgrazia, queste tragedie. Si tira avanti. È difficile però, no? Molto difficile. Ogni anno pensare a quello che è accaduto l'anno prima, si pensa sempre ogni anno che avviene. Non si dimentica mai questa cosa. Purtroppo i ragazzi... Ecco, c'è un consiglio alle famiglie che lei si sente di dare. Di andare avanti, di tenere duro che la vita continua sempre. Non è facile, capisco. Io ieri sera ho dimenticato il cellulare a casa. Quando sono rientrato a casa ieri sera ho fatto un'ora di piangere. Ho vissuto quello che a volte mi è successo a me due anni fa. Capisco che il tema non è quello centrale, però in concomitanza con la festa, ora ci si domanda che facciamo. Giustamente gli organizzatori dicono come si fa a far finta che non sia successo niente, festeggiare, eccetera, eccetera. Voi due anni fa lanciaste, non direttamente ma attraverso i vostri familiari, il messaggio andate avanti perché Sebi avrebbe voluto che si andasse avanti. Cosa si sente di dire oggi? Io ho fatto andare avanti perché a Sebi in realtà il carnevale gli piaceva. Lui andava a fare i carri, stava tre mesi nei garage, poi veniva a casa e il carnevale gli piaceva. E allora ho detto no, devo andare avanti perché a lui gli piace. È andata avanti. Una tragedia che ha portato organizzatori e protagonisti della festa a porsi oggi l'interrogativo su cosa fare nella consapevolezza di sbagliare comunque qualsiasi scelta potesse essere assunta. La manifestazione prenderà il via regolarmente oggi pomeriggio con la sfilata dei carri allegorici, ma ci saranno dei momenti di raccoglimento e di silenzio in ricordo di Vincenzo Soldano e quanto è stato deciso questa mattina nel corso di una riunione tra amministrazione e carristi. Al termine è stato diffuso un comunicato stampa. Il servizio di Maria Genuarti. Una città sconvolta per la morte del giovane Vincenzo Soldano e come era già successo due anni fa quando a perdere la vita era stato Sebastian Soldano. Ci si è interrogati su cosa fare. Questa mattina nella sala giunta il sindaco Francesca Valenti e il vice sindaco Filippo Bellanca hanno convocato e presieduto una riunione alla quale hanno partecipato quanti sono coinvolti nel carnevale. Oltre all'amministrazione, al personale dell'ufficio di protezione civile, dell'ufficio organizzativo e della società Scirocco, erano presenti i responsabili di tutte le associazioni culturali, carristi e coreografi che hanno espresso profondo dolore per la tragedia accaduta la notte scorsa in città con la morte del giovane di 16 anni. Un lutto che getta nello sconforto una famiglia alla quale organizzatori e protagonisti della festa hanno voluto esprimere innanzitutto la loro vicinanza. C'è dolore, smarrimento e sconforto hanno scritto infatti nel comunicato stampa diffuso in mattinata da Palazzo di Città. Anche questa volta ci si è interrogati sullo svolgimento dello storico evento, sul dare il via alla manifestazione che ha un suo spirito e inevitabilmente crea una sua atmosfera. Nel corso della riunione si è dovuta prendere una decisione, si legge ancora nel comunicato, in una situazione non facile e con l'umana tentazione di spegnere tutto, nella consapevolezza pure di sbagliare comunque, con qualsiasi scelta e con qualsiasi parola. Amministrazione e operatori del Carnevale hanno deciso che oggi, prima della partenza del corteo dei carri allegorici prevista alle ore 16 in via Cappuccini, ci sarà un momento di silenzio e raccoglimento con i bambini del gruppo della maschera simbolo del Peppe Nappa che alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni culturali lanceranno in aria palloncini bianchi. È stata annullata la prevista cerimonia di inaugurazione con la pioggia di Coriandoli. Altro momento di raccoglimento sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. All'arrivo del Peppe Nappa si osserverà un minuto di silenzio spegnendo pure le luci del palco. Nello stesso istante osserveranno un minuto di silenzio i carri allegorici che si spegneranno lungo il percorso del centro storico. Ancora Carnevale, corsa contro il tempo per completare l'assemblaggio dei carri allegorici ancora in sosta in via Cappuccini dove questa mattina non si respirava la solitaria di festa a causa del tragico evento che nella notte ha scosso l'intera comunità saccenze. In via Cappuccini è andata per noi questa mattina Francesca Ciaccio. Un inizio di sfilata oggi non certo dei migliori. Il tragico incidente della scorsa notte in cui ha perso la vita il giovanissimo Vincenzo Soldano ha scosso l'intera comunità. Alla riunione questa mattina al Comune per decidere come affrontare il tragico evento in pieno Carnevale c'erano anche i carristi delle associazioni culturali che hanno realizzato i carri allegorici. Noi siamo addolorati e ci stringiamo a quello che è il dolore della famiglia e giustamente è andato un po' a stravolgere quello che è l'atmosfera che si stava preparando. Io vengo infatti dalla riunione, siamo in comune accordo che si farà una manifestazione iniziale davanti del Peppe Nappa concordato con tutte le associazioni con il minuto di silenzio, il ricordo del caro Vincenzo e poi durante la sfilata ci sarà una normalità più assoluta e sul palco credo che ci sia un altro punto nel ricordo del giovane con il minuto di silenzio. Ovunque noi siamo spegneremo sicuramente l'amplificazione, le luci, quello che è, nessun ricordo. E' stata presa in considerazione l'ipotesi di annullare tutto o no? Guarda, questo poi andiamo molto sul tecnico, quindi purtroppo c'è stato anche un precedente due anni fa, quindi noi non eravamo presenti e non sapevamo come gestire la cosa. Chi era presente nel 2016 un po' ci ha indirizzato nello svolgimento in maniera analoga. Si poteva anche pensare questo, però capiamo che già siamo a sabato, una manifestazione è una macchina organizzativa che è già partita. Siete pronti per questo inizio di sfilata che non sarà tanto allegro quanto ci si aspettava? Purtroppo sì, neanche noi, non si aspetta mai nessuno una cosa di questa. Dei giorni che ci dovevamo divertire purtroppo ci hanno un po' storditi. È la seconda volta che capita in questo periodo di carnavale, non c'è niente da dire. L'unica cosa che si può dare è dire ai ragazzi di stare sempre attenti con il motore, soprattutto a carnavale di non bere, divertirsi, non si può divertire senza bere, senza correre con il motore. Sono dei ragazzi che non dovrebbero succedere purtroppo. Purtroppo sì, sono cose che ci dispiacciono e conoscevo anche il ragazzo, quindi non ci sono parole. Momenti delicati per i carristi alle prese con l'ultimi accorgimenti prima della partenza di questa sera. Alcune opere in cartapesta sono già complete, altre ancora in fase di montaggio. Noi siamo ancora in fase di assemblaggio perché c'è un forte vento per la sicurezza, ieri sera un po' di pioggia ci ha, è un po' bloccato, però stiamo cercando di completare il più possibile per iniziare. Sarete pronti questa sera? Faremo di tutto per essere pronti, è il nostro obbligo, ripeto, il vento e la pioggia di questi giorni ci ha un po' limitato, però tra l'altro siamo gli ultimi a sfilare e cercheremo di essere più pronti possibili. Quasi ultimata la fase di montaggio? Sì, stiamo arrivando, stiamo finendo tutto, stiamo ultimando gli ultimi dettagli, ma siamo pronti. Stiamo terminando con gli ultimi accorgimenti e siamo pronti per la sfilata. E andiamo al programma della manifestazione. Stasera sul palco di Piazza Angelo Scandaliato, oltre all'esibizione di tutti i gruppi, ci sarà la recita dei copioni da parte di tre associazioni culturali. Ieri la manifestazione è stata annullata a causa della pioggia, ma le previsioni meteo non lasciano ben sperare per le giornate di lunedì e martedì. E già si parla di un possibile slittamento a sabato e domenica della prossima settimana. Seguiamo quest'altro servizio. Entrano in scena i carri allegorici che, preceduti dai gruppi mascherati, sfileranno oggi pomeriggio lungo il percorso che da Via Cappuccini attraverserà la Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incise e Piazza Mariano Rossi. Per arrivare in Piazza Angelo Scandaliato, dove ad aprire lo spettacolo sul palco, sarà la maschera simbolo del Carnevale di Sciacca, il Peppe Nappa. Già questa sera, oltre all'esibizione di tutti i gruppi mascherati che precedono i carri, ci sarà la recita dei copioni che impegnerà tre associazioni culturali, la Nuova Isola con il carro Mezzogiorno di Fuoco, la Nuova Arte 96 con il carro Trampolino per un Sogno e l'associazione Il Gatto e la Volpe con il carro Fischio e Menefischio. Era già stato stabilito nelle scorse settimane, quando era stato effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di sfilata durante i giorni della festa. Si proseguirà con le recita anche domani sera, due quelle in programma. Si tratta dell'associazione Saranno Famosi con il carro Lago della Bilancia e dell'associazione La Nuova Avventura con il carro Scuma di Ucca. Le recite dei rimanenti tre copioni saranno spalmate nelle serate di lunedì e martedì, sulle quali incombe già l'incubo della pioggia che ha compromesso del resto anche la serata di ieri. La pioggia del pomeriggio ha fatto saltare l'organizzazione della seconda giornata del carnevale che prevedeva la sfilata dei soli gruppi mascherati nel centro storico. Prima è stata annullata la sfilata e poi intorno alle 18 è arrivata la decisione e la comunicazione da parte degli organizzatori di annullare anche lo spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Assunta la decisione un'ora dopo si è fermata anche la pioggia. Le previsioni meteo sono confortanti per oggi e domani ma non altrettanto per le giornate di lunedì e martedì quando si prospettano addirittura temporali e già si parla in caso di mancato svolgimento di una o di entrambe le giornate conclusive della festa di uno slittamento a sabato e domenica della prossima settimana. E anche quest'anno la casa del volontariato di Piazzetta Bevilacqua sarà aperta per ospitare diversamente abili le loro famiglie durante i giorni del carnevale. La casa del volontariato che si affaccia su via Licata e Corso Vittorio Emanuele sarà aperta per consentire diversamente abili di assistere alla sfilata mettendo a disposizione un supporto logistico per la loro assistenza. Il servizio è di Maria Luisa Sant'Angelo. Sarà aperta anche quest'anno nei giorni del carnevale dopo l'esperimento ben riuscito dello scorso anno la casa del volontariato e dell'associazionismo di Piazzetta Bevilacqua. I diversamente abili e loro famiglia potranno assistere alla sfilata dei carri allegorici in via Licata e avere nella struttura un supporto logistico per i servizi e l'assistenza. L'iniziativa voluta da tutte le cinque associazioni che gestiscono la casa e il volontariato lo scorso anno ha permesso ai diversamente abili di assistere direttamente da Piazzetta Bevilacqua dove è possibile ammirare uno degli scorci più belli della sfilata dei carri e dei gruppi mascherati in centro. Uno spazio meno esposto alla confusione dove i disabili assistiti da familiari e volontari possono godere dello spettacolo. Inaugurata nel novembre del 2016 la casa del volontariato e dell'associazionismo di Sciacca è gestita da cinque associazioni. Si tratta dell'AGA per crescere insieme, Avuls impara a sorridere e Arcobaleno, associazioni che hanno costituito il COVO PRO, coordinamento volontariato provinciale e che si occupano della gestione e cura della struttura. I volontari delle varie associazioni consentono l'apertura e la fruizione della casa del volontariato organizzando progetti e iniziative destinate non solo ai componenti delle varie associazioni ma aprendo la fruizione della struttura a quanti più cittadini possibile nell'ottica di una casa che sia aperta alla città e che per la stessa vengono realizzati progetti di ausilio all'integrazione dal teatro ai corsi di approfondimento della lingua italiana per anziani. E anche in occasione del carnevale le associazioni e i loro volontari vogliono essere presenti a sostegno diversamente abile delle loro famiglie, aprendo le porte della casa dell'associazionismo di Sciacca da domenica a martedì dalle 17 alle 22, offrendo un supporto logistico alle mamme per l'allattamento e il cambio pannolino e agli anziani e a coloro che avendo difficoltà motorie vogliono fermarsi in piazzetta Bevilacqua per assistere alla manifestazione. Un pullman per portare i più giovani al carnevale di Sciacca ed evitare che utilizzino le loro auto. Questa è l'iniziativa del comune di Villa Franca Sicula che ha deciso di organizzarsi dopo varie richieste pervenute all'amministrazione tramite le pagine facebook istituzionali. Il servizio di Calogero Parla Pian. Un autobus da 53 posti per portare i giovani del paese al carnevale di Sciacca in tutta sicurezza ed evitare che percorrano la statale 115 e le strade provinciali con mezzi propri. Questa è l'iniziativa del comune di Villa Franca Sicula che ha promosso il bus per martedì giorno in cui di solito si chiude la cremesse con il rogo in tardanotte del Peppinnappa. La richiesta all'amministrazione comunale del piccolo centro montano è pervenuta tramite facebook da diversi utenti e residenti come spiega ai nostri microfoni il sindaco Mimmo Balsamo. Sì noi abbiamo non potendo fare grandi cose essendo una piccola realtà e le grandi difficoltà economiche che ci sono abbiamo messo a disposizione un bullman per i nostri giovani che nella serata di martedì possono partecipare al carnevale di Sciacca. Questo sicuramente è cercare di fare un po' di prevenzione per evitare che poi i ragazzi con le macchine proprie poi sappiamo un po' come va a finire la serata di carnevale c'è molta allegria così almeno possiamo evitare e prevenire eventuali rischi di incidenti che possano succedere nell'arco della nottata. Sono piccole cose però abbiamo cercato di fare qualcosa. Com'è nata questa idea? È nata appunto dal vedere cosa cercare di fare, cosa poter fare viste le risorse scarse che ci sono nei comuni, nei bilanci dei comuni. Allora magari facendo un sontaggio tra la gente attraverso una proposta mandata su Facebook è venuta fuori questa bella idea, dico io, che magari lì per lì mi sembrava un po' così un po' strana però alla fine devo dire che è molto condivisa da parte della gente è molto apprezzata. Cambiamo adesso argomento. È giallo sulle cause della morte del pescatore Aristide Daino di 41 anni il cui corpo è stato rinvenuto ieri mattina vicino alla banchina del porto di Porto Empedocle dove attraccano i pescherecci. Ne parliamo in questo servizio. Il giallo attorno alla morte di Aristide Daino si infittisce. È stato trovato cadavere ieri mattina da un altro pescatore che ha dato l'allarme. Il corpo senza vita del quaranteno originario di Favara ma residente da tempo nella città marinara era in acqua nel porto di Porto Empedocle senza pantaloni e con solo una scarpa. Sono in corso le indagini della polizia. Gli uomini del commissariato frontiera di Porto Empedocle diretti dal vicequestraggiunto Cessare Castelli indagano a ritmo serrato. Sono tanti gli interrogativi. Quello che si sa è che Aristide Daino aveva da poco fatto pace con il compagno, comunque aveva una relazione ad intermittenza. Era andato a dormire in barca. Era un esperto non datatore, figlio di Parombaro. Si esclude il suicidio. Non si esclude l'incidente. Ma perché era senza pantaloni e senza una scarpa? L'altra scarpa è stata trovata in acqua ma dei pantaloni ancora nessuna traccia. Quello che stanno facendo gli agenti è cercare di ricostruire le ultime ore di Aristide Daino. Pare che sia rimasto in compagnia di un uomo che ancora gli agenti non sono riusciti a sentire. Stanno però ascoltando e scandagliando tutti gli aspetti e le abitudini dell'uomo. Pare che la sera prima sia andato a bere anche parecchio, ma non nel solito bar. Aveva piccoli precedenti legati al mondo della droga, era assuntore e pare che dovesse dare dei soldi a un gruppo di extracomunitari. Proprio con loro, secondo quanto stanno ricostruendo gli agenti del commissariato frontiera, aveva avuto una lite. Sul corpo dell'uomo è stata eseguita l'ispezione cadaverica. Nessun segno di colluttazione, ferita, ma è presto per tirare le somme. Si aspetta l'autopsia. Già nella giornata di ieri la polizia ha iniziato a visionare le registrazioni delle telecamere. Qualcuna, quelle delle capitanerie, senza ottenere risultati. Poi anche quella di un bar ed oggi visioneranno quella di un altro privato. Interruzione della distribuzione idrica nel comune di Calamonaci lunedì prossimo 12 febbraio a partire dalle 7.30. Sospensione del servizio fa sapere Girgentiacque legata alla necessità di eseguire un intervento di manutenzione lungo la condotta principale di via Cesare Battisti che sarà ultimato entro le ore 15. Dopodiché la distribuzione idrica sarà ripristinata normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Una visita guidata sul percorso della sciacca medievale. Questa è l'iniziativa della FIDAPA e dei gruppi archeologici che hanno ospitato le sezioni provinciali della FIDAPA. Il Palazzo Perollo, Torre del Pardo e Chiesa di Sant'Antonio Abate tra i monumenti che sono stati presentati ai visitatori. Vediamo. Un viaggio tra le bellezze e i monumenti di sciacca con partenza dall'ex chiesa Santa Margherita di Piazza Carmine. Questa è l'iniziativa promossa oggi dalle sezioni locali della FIDAPA e dei gruppi archeologi d'Italia. L'intento è quello di valorizzare e far conoscere il territorio, promuovendo l'itinerario storico e architettonico del centro storico. Il percorso è stato organizzato in occasione dell'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca e coinvolgerà anche la FIDAPA di Palermo, di Caltanissetta e di Palma di Montechiaro. È un modo, secondo me, brillante di coniugare l'iniziativa del Carnevale, che è un'iniziativa storica ormai per la nostra città, con la conoscenza della città. Sciacca ha tanti bei scrigni preziosi come la chiesa dove ci troviamo per ora, di Santa Margherita, ed è giusto proporle ai visitatori che vengono. Il Carnevale è anche come occasione di conoscenza e di divulgazione di questa preziosa città medievale. Il percorso che faremo è un percorso medievale che abbraccia via Incisa e i siti principali. Partiamo dalla chiesa di Santa Margherita e arriveremo verso il Duomo di Sciacca. Un'iniziativa come questa dimostra che anche durante il Carnevale si può fare cultura allora? Il Carnevale è un momento, non è il fine, è un mezzo per promuovere la città. Ed è un mezzo, in questo caso, molto efficace, molto brillante, perché vengono dei visitatori ed è giusto essere pronti a fare l'accoglienza adeguata. Se è da spendere qualche parola ricordando nel contesto in cui noi ci troviamo le bellezze di Sciacca, perché no? Bene fa l'amministrazione a promuovere queste cose. I monumenti sono i più antichi della città di Sciacca, che partono dal 1100 fino al secolo XV. Si tratta della chiesa di Santa Margherita, del Carmelo o il vecchio nome di San Salvatore che è del 1107. Poi parleremo anche del, visiteremo il palazzo Argomento, poi passo per matrimonio a Iperollo e successivamente alla famiglia Arone. Poi parleremo anche della torre di Pardo, della chiesa, quanto mi riguarda, di Sant'Antonio Apate. Si è optato per un percorso in centro storico? Inizialmente si doveva partire da San Michele, magari ci sarà un'altra occasione per parlare dei monumenti di San Michele. Esatto, io credo che sarebbe stato il percorso migliore, cioè iniziare non dall'atteo, ma iniziare dalle fondamenta. La parte più antica di Sciacca è quella, cioè il percorso da San Michele a scendere fino ad arrivare a Sant'Agostino o Camordino. Questa è la parte più antica di Sciacca. Noi lì abbiamo tutta la storia di Sciacca, cioè dal preistorico Tardo Neolitico fino al periodo normanno. Quindi avremmo avuto l'opportunità di far conoscere alla gente la vera storia di Sciacca, cioè quando è nata Sciacca e come è nata, da un piccolo borgo berbero fino alla città normanna. Il motivo principale è quello di fare conoscere le meravigliose bellezze che abbiamo su Sciacca. La Sciacca medievale è famosa in tutto il mondo, infatti noi faremo un percorso tipicamente medievale dove racconteremo la storia di personaggi illustri come il conte Perollo e il conte Luna. Il Comune di Ribera incontra il mondo della scuola. Si è svolto all'interno della Sala dei Sindaci del Palazzo Municipale un incontro tra amministrazione comunale e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado. Legalità, ecologia, integrazione, i temi affrontati. Incontro che ha sancito la nascita di un gruppo di lavoro per la programmazione e la promozione degli eventi culturali. È necessario lavorare insieme, commenta l'assessore Montalbano, sviluppare idee e coinvolgere più persone nell'ottica della crescita della comunità. Adesso la rubrica Il Libro del Giorno. Qualcosa di speciale unisce Corrado Augas ad Istanbul. Un po' quel velo sottile fra malinconia e rimpianto è un po' il fatto di essere nato a Roma, che con la città turca condivide una storia densa di stratificazioni, testimonianza della sua vita millenaria. Da qui deriva il senso di meraviglia che essa suscita e da qui sgorgano le sue storie. Storie di sultani e avventurieri, principesse e concubine, harem e dervisci. Un libro che è quasi un romanzo di viaggio, una guida sentimentale ai segreti di una città, che va scrutata non soltanto in estensione, ma in profondità. I segreti di Istanbul di Corrado Augas. Edito è in Audi. Termina qui il nostro telegiornale. Prima di chiudere io vi ricordo che questa sera a partire dalle 20 e 30 potrete seguire in diretta sulla nostra emittente il Carnevale di Sciacca, dunque lo spettacolo sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon fine settimana.